Ma buongiorno, che bello eh Eccoci ragazzi, ma che bello Allora oggi come avrete letto dal titolo molto clickbait ma no perché questa volta Praticamente noi oggi andremo ad attaccare mille adesivi sul nostro armadio Parzialmente questo titolo è clickbait perché ne andrò ad attaccare cento, centotrenta Sono un po' un falso, vi spiego un attimo la serie di questa mia pazzia Io sono uno che ama il minimal ma allo stesso tempo vuole il creativo e colorato Amo le cose creative, sono un creativo, tutto andare, tutto spiano e amo le cose colorate Per quello abbiamo cambiato la nostra location, location 10, che ridere Ma in realtà non fa ridere Quindi praticamente, ah sì abbiamo cambiato location perché non posso farvi vedere la mia camerettina Il mio armadiettino perché ha già tutti gli adesivi attaccati Dato che questo video lo sto registrando il 6 aprile 2018 Mentre gli adesivi li ho attaccati il 17 marzo 2018 Ma quanto sono bravi, ma te lo facciamo, wow Ehm, mi sono già perso di nuovo Ah sì, non attaccheremo i 2000 adesivi, i 1000 quanti ho scritto nel titolo Tra l'altro alcuni mi sono anche avanzati E un giorno insieme a voi nei commenti mi direte dove attaccarli Qua ne ho tipo ancora 15, tanti adesivi Questo qua so già dove metterlo Non metto a fogo perché è troppo lontana Comunque, allora vedrete il video Ah, dove li ho presi? Li ho presi su Amazon, questo video non è sponsorizzato perché li ho presi random, proprio stupidamente su Amazon A 8 euro 100 adesivi Se no c'è tipo 12 euro 300 o 16 euro Comunque sì, non sapevo come buttare i soldi quel giorno Infatti anche io me lo chiedo ancora Perché ho speso 8 fottuti euro per degli adesivi? Sono fatti bene, sono belli, sono molto, molto vaporwave Hanno tante marche, tante cose strane Quindi mi piacciono a me le cose strane E quindi è bello Sì, sì Quindi è successo più o meno così E quindi è successo più o meno così Quindi come avete visto abbiamo attaccato tantissimi adesivi ragazzuoli miei Ehm, sì, 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 proprio così Sì, sì, sì Ehm Ehm Niente, era un video che volevo fare con voi perché io sono una persona creativa Ehm Così rompo il... Ehm Ah, un'altra cosa In questo momento non ho il mio pc con... Non ho il mio pc fisso Che non mi dovete prendere in giro però Perché non ho il mio pc fisso Perché ho deciso di cambiarlo Quindi ora sto usando il mio laptop Ma sto cercando di assemblarmene uno davvero forte ma potente ragazzi Potente Comunque è bella la mia camionettina di Capitale America Sì, mi piace anche a me Quindi ragazzi Questa location mi piace un casino però È davvero bella perché c'è l'acquario Quindi Da Simoli è tutto e Adios